Buonasera, tentiamo con l'aiuto di dieci testimonianze di ricostruire la personalità e le vicende di uno dei personaggi più complicati e discussi della recente vita italiana, Licio Celli. Il giudice Pierluigi Vigna, 45 anni, sostituto procuratore della Repubblica a Firenze, ha la fama di Duro, di primo della classe, cosa che era anche ai tempi in cui, nella sua città, frequentava le Querce, uno dei collegi più esclusivi. Si è occupato di terrorismo rosso e nero, dall'omicidio del giudice Corsio alle indagini su prima linea e azione rivoluzionaria. E' arrestato più di 90 terroristi, per questo è stato minacciato di morte. Il giudice Vigna ha anche indagato sul ruolo della massoneria, in particolare della loggia P2 nelle trame nere. Ha interrogato Licio Celli alle 6 del pomeriggio del 14 agosto 1976. Dottor Vigna, lei è il solo magistrato che ha avuto occasione di conoscere e di interrogare Licio Celli, cioè di vederlo in un'aula del Palazzo di Giustizia. Quando è accaduto e perché? Senza andare evidentemente al di là di quelli che sono i limiti giudiziari. No, dottor Biagi, se ne può parlare tranquillamente di questa vicenda, perché forma oggetto di un procedimento penale già svolto e già passato in giudicato. Il giorno fu il 14 agosto del 1976 e l'ora, come risulta dal verbale, le ore 18 del 14 agosto 1976. Io mi trovavo a fare le indagini allora sul primo processo Occorso, quello che poi portò alla condanna di Concutelli ed altri. Per l'uccisione del magistrato? Del magistrato. Occorso era stato ammazzato a Roma il 10 luglio 1976. Il processo era stato trasmesso per competenza dalla Cassazione all'autorità giudiziaria di Firenze e io fu incaricato di occuparmi di questa istruttoria. L'omicidio era stato rivendicato da ordine nuovo con un volantino, ma il magistrato, come dicono anche i giornali, deve seguire tutte le piste. E poiché Occorso si occupava anche di una grossa indagine sui sequestratori di persona, fra cui Bergamelli, essendo venuto fuori che un certo avvocato, allora inquisito per sequestri di persona e difensore pare anche di Bergamelli e nello stesso tempo di gente di destra, essendo risultato, dico, che questo avvocato era massone, ed essendo allora iniziata una campagna di stampa su Gelli, io ritenni doveroso sentire Gelli che sentì come testimone. Ricordo che lo feci citare telefonicamente dalla polizia giudiziaria il giorno prima, cioè il 13 agosto. Ricevetti una comunicazione da chi l'aveva citato, secondo la quale il signor Gelli si trovava all'estero, ma sarebbe stato puntuale per l'appuntamento che gli avevo fissato. E infatti alle 18 precise il signor Gelli, vestito impeccabilmente, dichiaro, data la stagione, giunse nel mio ufficio. Fu molto deferente, se posso usare questo termine, verso il magistrato. Disse che ovviamente la campagna di stampa nei suoi confronti era assolutamente diffamatoria, tanto che aveva proposto una serie di querele, e io gli chiesi un breve scorcio della sua vita che lui mi dette. Si entrò poi a parlare della P2, e mi fu fatto presente da Gelli, e questo mi fu poi confermato in una deposizione del giorno dopo dall'allora Gran Maestro Salvini, che pure sentì come testimone, che questa loggia, che era caratterizzata da una estrema riservatezza, era stata sciolta dal Gran Maestro Salvini, ora deceduto, nel dicembre 1974. Gelli era segretario organizzativo di questa, chiamiamola, prima P2, o prima loggia propaganda. E quindi Salvini aveva invitato Gelli a ricostituire un'altra loggia, la P2, su basi di maggiore apertura. La mia indagine giungeva proprio nel momento in cui si cominciava a ricostituire quella loggia in cui gli elenchi sono stati poi rinvenuti dai magistrati milanesi, e gran parte delle tessere mi pare risalgono all'anno 77, io lo interrogavo, ripeto, nell'estate del 76. Il signor Gelli, rammento questo particolare, e del resto risulta dalla deposizione del Salvini, che aveva contatti con grosse personalità, il signor Gelli mi disse, finito il verbale, che era un po' preoccupato perché aveva un appuntamento in Spagna per quella stessa sera con il re di Spagna. Io gli dissi che ero dispiaciuto, ma che forse avrebbe fatto tardi alla cena. E lui di sua iniziativa mi disse, sa perché in Italia si potrebbero mangiare le bistecche a 500 lire. Tema ovviamente che rende tutti estremamente sensibili. Mi spiegò così nel parlare che la carne costava pochissimo in Argentina, lui era consigliere economico accreditato della Repubblica Argentina, ma non poteva questa carne essere importata direttamente in Italia, per cui doveva fare delle pratiche, non so che in Spagna, io non mi intrattenne ovviamente su questo discorso che non mi interessava. Possiamo andare a vedere che cosa diceva il gran maestro del venerabile Gelli? Certo, gli atti, come ripeto ancora, sono pubblici. Che giudizio ne dava? Certo, il professor Salvini disse, considero Gelli una persona abilissima e intraprendente. E parlava poi degli affari del Gelli. E dice, dice Salvini, io sono portato decisamente a escludere che egli abbia mai avuto idee golpiste anche per motivi psicologici. Salvini era professore di medicina nucleare. Ritengo infatti che egli sia un uomo d'affari. La sua posizione gli ha creato molte gelosie e così via. Ma non aggiunge qualcos'altro sui buoni rapporti che aveva Gelli? Certo, risulta da questo verbale che Gelli era consigliere economico della Repubblica di Argentina per l'Italia, che le società da lui amministrate commerciano con la Romania e che era amico di numerosi politici di cui franno nomi. Come dici? La lettura è, commerciano la Romania, ha infinite amici, fra cui Andreotti, Piccoli, Mariotti, la sua casa è frequentata da numerosi generali e comunque da alte personalità. L'onorevole Giulio Andreotti è nato sotto il segno del Capricorno il 14 gennaio 1919 a Roma. Laureato in giurisprudenza da giovane ha fatto anche giornalista. Entra in politica nel 1942 come presidente nazionale dell'Associazione Studenti Universitari di Azione Cattolica. Nel 1944 al congresso DC di Napoli diventa membro del Consiglio Nazionale e da quel momento non si è più fermato. All'ombra di De Gasperi ha dedicato i compiti organizzativi all'interno del partito. Ottiene un seggio alla Costituente e nel 1947 è nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Nel 1954 a Minto Refanfani gli affida il di Castero degli Interni. È stato 14 volte ministro delle finanze del Tesoro della Difesa degli Esteri, quattro volte presidente del Consiglio. Gli scandali da quello Giuffre alla P2 lo hanno appena sfiorato. Lui è sempre guizzato via senza sporcarsi. Ora qualcuno gli pronostica il Quirinale. Al Tribunale di Firenze è possibile leggere dei verbali che oggi sono pubblici di un interrogatorio fatto al gran maestro della masoneria Salvini anni fa. In questi verbali si legge tra l'altro che Licio Gelli aveva degli amici, anzi si legge testualmente, Gelli ha infiniti amici tra i politici, tra cui Andreotti, Piccoli e Mariotti. A parte che se ne ha infiniti non so perché se ne citano tre nel caso. Io non conosco Salvini e quindi non so. È morto. È morto. Vabbè, allora non faccio nemmeno tempo a conoscerlo. Ma dire amico è un termine assolutamente improprio. Io Gelli lo conoscevo come un direttore di un'industria di Frossinone importante, ma certo che non è la Fiat, è la Permaflex dei materassi. E del resto nelle cerimonie così di inaugurazione non faceva nemmeno lui l'onore di casa, le faceva il proprietario. Poi lo ritrovai con grande mia meraviglia a casa di Peron a Buenos Aires il giorno dell'insediamento. Io ero lì a rappresentare il governo italiano e mi colpì la deferenza con cui Peron lo trattava. non riusciva ad inquadrarlo. Poi dopo, da quello che si è visto, probabilmente può darsi che avesse un grado maggiore massonico rispetto a quello di Peron. Poi lui fu destinato qui a Roma all'ambasciata di Argentina con un incarico proprio particolare, quello di tenere dei rapporti ogni visita ufficiale che c'era di qualcuno e ognuna delle volte che c'erano le grane per cercare dei dispersi, se si poteva avere qualche notizia. Sotto questo aspetto l'ho visto alcune volte, non mi ha mai parlato né di massoneria, né mi ha mai chiesto niente, né ho avuto la sensazione che fosse un uomo così importante. Dopodiché leggo quello che si legge nei giornali, ma di scienza mia non posso così né aggiungere né togliere niente. Se tutte le cose che ha detto Salvini sono così esatte, non è una testimonianza che aiuterà molto a conoscere i fatti. Lei che opinione si è fatta della P2? Io credo che sia una loggia massonica, questo è ufficialmente. Adesso poi se fosse una società di mutuo soccorso, se avesse delle caratteristiche diverse dalle altre loggie, se le altre loggie le abbiano volute caricare di tinte negative per evitare che si potessero riaccendere polemiche antimassoniche, che del resto a me sembrano abbastanza anacronistiche fatte oggi. Ma anche sul complesso di queste cose non saprei dare un giudizio, aspettiamo tutti di sapere che cosa facessero, che cosa avessero fatto. Alcune cose mi sono sembrate abbastanza umoristiche, che per esempio se una loggia segretissima poi le investiture le faceva all'albergo Excelsior, beh, così questo mi sembra un fatto leggermente pulcinellesco, ma questo è solo un aspetto esteriore, per il resto vedremo. Certo, dire che costoro avessero una specie di grande potere occulto, beh, io insomma molte volte ho dovuto fare scelte di persone anche per cose importanti, non ho mai avuto la sensazione che si fosse dietro P2 o ho avuto segnalazioni diretta o indiretta da gente di P2, mi sembra che sotto questo aspetto può darsi che esercitassero anche un certo millantato credito. Non pensa che siano state una minaccia per lo Stato, come qualcuno dice? Da quello che io so, no, dentro lo Stato ci vivo abbastanza, ecco, mi sembra, è vero che quando ci sono le cose clandestine, sono come le talpe, uno si accorge del danno che fanno quando il terreno ormai è crollato, però, ecco, mi sembra un'esagerazione, io ritengo lo Stato un po' più forte che essere sconfitto dalla P2, beh, è un mezzo che non c'è. Clara Calvi, laureata in Biologia e nata a Bologna, si presume una sessantina di anni fa, anche se lei non ha mai voluto dire quando. Conobbe Roberto Calvi durante una vacanza a Rimini, si sposarono a Milano e hanno avuto due figli, Anna e Carlo. Ha sempre fatto la casalinga e non si è mai interessata al lavoro del marito, anche se ha conosciuto molti importanti personaggi del mondo politico, economico e legati al Vaticano. Vive tra le Bahamas, Washington e Londra, dove ha affittato un appartamento per seguire da vicino un'inchiesta sulla morte del marito. Ha sempre sostenuto che Roberto Calvi è stato assassinato. Vogliamo parlare un po' di Gelli a proposito di organizzazione? Eh, com'è Gelli? Io l'ho conosciuto per la prima volta nella suite dell'albergo del grande hotel di Roma. E ho conosciuto questi due signori che Roberto, per i quali Roberto aveva... Chi erano questi due signori? E uno era Ortolani e l'altro era Gelli, di cui aveva cominciato a parlare. Però non sapevo, già me ne aveva parlato, però poi ho saputo che facevano affare insieme. Gelli, cioè Gelli e Labonomi... Beh, non voglio dire delle parole grosse che mi diceva il mio marito. Stiamo a Gelli e Ortolani, allora? Io li ho conosciuti nella saletta dell'albergo. Con Ortolani siete diventati amici? Sì, con Ortolani eravamo amici, con il suo signore, i figli, li siamo andati a trovare in Uruguay. Sono gli unici che hanno fatto un necrologio? Sì, 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 è vero. Sì, infatti. Credo che Ortolani fosse un buon amico di Roberto. Siete rimasti amici? Beh, io non l'ho più sentito. Però l'anno scorso si faceva vivo con mio figlio, forse non è stato trattato bene. D'altra parte noi con... Capisce che sentire certi nomi in quel periodo... Di questi tre signori, chi si è dimostrato più leale con suo marito? Gelli, Ortolani o Sindona? Beh, senz'altro Ortolani. Gelli, secondo me, era un mediatore, un protettore. E comunque era una spia, chiaramente. Perché nessuno scrive montagne di carte con indicazioni vere e false, certamente. Perché non credo che si possa credere a una spia in pieno. Di chi è spia poi non lo so. Probabilmente cambi ogni tanto come le spie, no? Come tutte le spie. Che cosa pensa della P2? Beh, penso che sia una loggia come tutte le altre. Una loggia massonica. Però in Italia, francamente, mi pare che la massoneria sia servita soltanto a scontri personali. Gente che si nascondeva e non voleva ammettere di essere massone perché effettivamente non si sono aiutati fra di loro. Pensavo che... Mia madre almeno me ne parlava così. Che la massoneria fosse, non so, fosse formata da persone che si impegnavano ad aiutarsi con nobili scopi. Mi diceva che ne facevano parte professori di università, grandi avvocati. Insomma, personaggi molto intelligenti, molto importanti, molto influenti. Infatti, della P2 facevano parte persone importantissime e io sono convinta che Gelli fosse Gelli, però che ci fossero anche persone che in buona fede si fossero alleate per forse per far migliorare le cose che, come si sa, in Italia non vanno molto bene. L'avvocato Ernesto Di Polito, nato nel 1903, sposato senza figli, vive a Cosenza dove esercita la libera professione insieme con la madre e una zia. Associato alla massoneria, ha difeso Licio Gelli nel processo intestato gli dai fratelli. Le accuse erano queste, di avere rilasciato al Corriere della Sera, il 5 ottobre dell'80, una intervista. Il contenuto di queste interviste che, secondo l'accusa, metteva in cattiva luce finalità dell'istituzione massonica. E poi avere creato e gestito la loggia P2, definita appunto dall'ingolpazione, circolo privato, con finalità diverse da quelle proprie dalla massoneria. Come tale, in contrasto con la Costituzione e con i regolamenti massonici. La vicenda com'è finita? La vicenda è finita con la conferma della sentenza di primo grado che decretava l'espulsione di Gelli dalla massoneria. Qual è la sua opinione sulla P2? Non è una domanda a cui si possa rispondere con pochissime battute per chi da molti anni è nella massoneria e cerca di farsi opinioni proprie, perché, nonostante l'opinione pubblica spesso sia devastante e devastata insieme, come lei sa, come molti ormai sanno, la P2 è una vecchia istituzione massonica che nasce in Italia nell'altro secolo per lo specifico italiano, dove la presenza della Chiesa Cattolica, la presenza poi successivamente di altre istituzioni chiesastiche e clericali, consigliava una sorta di loggia riservata alla quale potessero accedere delle personalità che era imprudente immettere in loggie normali. In quanto tale, la P2 degli anni 70 non era diversa dalla P2 del secolo scorso. Secondo l'accusa dalla quale io ho cercato di difendere Gelli, come dicevo poc'anzi, questa gestione di Gelli avrebbe avuto finalità distorte rispetto a quelle tradizionali. Dovessi dire onestamente dall'incarto queste finalità non risultavano in alcun modo, così come appariva risibile l'accusa che non era contenuta ovviamente nell'incolpazione del progetto massonico, ma di cui poi la stampa si è fatta portavoce, di atteggiamenti addirittura eversivi della loggia gestita dal maestro venerabile Gelli, che in questa loggia fossero ammassate personalità nel mondo dello spettacolo, dell'industria, del Parlamento, gli alti gradi dell'esercito, questo è vero, ma che ci fosse in quelle carte l'ombra di un disegno eversivo o un disegno politico comunque contrario alle finalità repubblicane, lo escludo. Ermenegiddo Benedetti, 59 anni, avvocato in Massa Carrara, ex vice sindaco socialista, è stato il primo a sparare a zero su massonerie e massoni poco venerabili. Insieme con l'amico e fratello di fede Francesco Siniscalchi, denunciò le malefatte di Riccio Gelli della sua loggia segreta, prima all'interno della libera moratoria e poi alla giustizia profana. Nel tentativo di smascherare le trame del maestro Diarezzo, inviò ai giudici di Bologna che indagavano sulla strage fascista del treno Italicus un dossier di 2,6 kg accusando la P2 di avere ambizioni colpiste. Per tutta risposta nel 1976 fu espulso dalla massoneria per l'esa maestà. Era il grande oratore, il numero due del grande oriente d'Italia. Avvocato Benedetti, chi è Riccio Gelli e come lo ha conosciuto? Io ho conosciuto Riccio Gelli quando fui eletto un grande oratore del grande oriente d'Italia nel 1970 e le conobbi proprio in virtù della posizione che avevo assunto all'interno della massoneria. Dire chi è Riccio Gelli non è una cosa semplice, perché Riccio Gelli è una personalità direi composita. È indubbiamente una persona molto abile, molto furba. l'intelligenza non è che sia un'intelligenza trascendentale, ha delle doti di organizzatore, ha delle possibilità di intraprendenza abbastanza notevoli. Se dovessi esprimere un giudizio sul piano umano di Riccio Gelli esprimerei un giudizio positivo, che è indubbiamente un uomo che qualche cosa vale. Sul piano intellettuale, non sul piano umano. E sul piano umano mi pare che abbia qualche difettuccia, no? Sì, sul piano umano abbiamo tutti i nostri difetti, quindi indubbiamente anche lui ha i suoi difettucci. Ma fra difetti e reati c'è qualche differenza, lei che è avvocato. Sì, non c'è dubbio che c'è differenza fra difetti e reati, però ignoro se abbia commesso dei reati. Personalmente non ho conoscenza di reati che siano stati commessi da Gelli. Conosco quello che tutti conoscono attraverso gli organi di informazione, però se io sapessi che Gelli avesse commesso dei reati, sentirei il dovere di cittadino di segnalarlo a chi di dovere. Perché lei lo ha denunciato al Tribunale Massonico? Dunque, intanto va precisato che io non l'ho denunciato al Tribunale Massonico. Io ho fatto una lotta contro Licio Gelli di carattere esclusivamente massonico, perché a mio parere la loggia P2 che era praticamente diretta da Gelli prima come segretario organizzativo, perché Salvini aveva trovato questo escamotage per far dirigere la loggia a Gelli che non avrebbe potuto dirigerla perché era riservata al Gran Maestro. Poi dopo ho trovato le escamotage di trasformarla in una loggia apparentemente normale e quindi Gelli ha potuto essere nominato Maestro Venerabile della loggia. La mia lotta contro Gelli, che ho dichiarato essere stata di carattere massonico, era motivata dalla considerazione che la loggia P2 era una loggia veramente anomala, atipica rispetto a quelle che erano le normali loggie del Grande Oriente d'Italia, di quella che si chiama la Comunione Italiana. Io come grande oratore che avevo il compito di tutelare la tradizione, il costume e la legalità massonica, non potevo non prendere questa posizione dopo essermi reso conto che la loggia P2 non era una normale loggia massonica. Che cosa aveva di diverso dalle altre? Ma intanto aveva di diverso dalle altre una segretezza che non si concilia all'interno della massoneria. Poi era una loggia che sfuggiva a ogni controllo e a ogni vigilanza. Poi si occupava, la nostra impressione era questa, di politica in maniera piuttosto sostanziale. Poi ancora avevamo la sensazione, che poi pare sia stata confermata dai fatti, che venissero immessi nella loggia P2 personaggi appartenenti a qualunque partito politico o di qualunque ideologia, anche contrastante con l'ideologia massonica tradizionale. Non so, per esempio fascisti o cattolici, cose così. Perché secondo lei i fascisti e i cattolici non possono far parte della massoneria? No, secondo me né fascisti né cattolici possono far parte della massoneria. I cattolici perché sarebbero in contraddizione con se stessi. La massoneria non ha pregiudizi nei pregiudiziali nei confronti di chi sia, però ha dei principi ben saldi e ben fondati, se intesa come deve essere intesa, con i quali deve armonizzare il soggetto che chiede di farne parte. Ora in massoneria c'è un principio per cui la verità l'uomo non la possiede ancora e quindi la deve ricercare continuamente attraverso un lavoro introspettivo, culturale eccetera. Evidentemente il cattolico che diventa massone si trova in contraddizione con se stesso perché lui la possiede la verità in quanto ce l'ha rivelata. Ecco uno dei motivi per cui i fascisti mi pare che sia intuitivo, perché la massoneria si alimenta di libertà. Lei pensa che la P2 sia stato un pericolo per lo Stato italiano? La mia impressione soggettiva è che lo sia stato, a vedere quello che è venuto fuori perché le dirò che anche quando noi lottavamo contro la P2 non avremmo mai immaginato che la situazione avesse assunto tale ampiezza quale quella che poi è scaturita soprattutto a seguito del sequestro dei documenti a Castiglionfibocchi e che ha sorpreso anche noi. Pensa che quell'elenco trovato sia completo? Lei sa che c'è anche qualche di un altro? Io ho sempre pensato che non sia completo. Evidentemente ci sono altri che non risultano in quell'elenco, però se lei mi chiedesse se so chi sono le risponderei di no, non lo so. Che opinione si è fatta della fuga del Venerabile? La mia opinione personale per quel che vale è che la fuga del Gelli sia stata una fuga voluta non soltanto da lui, anche perché se il Gelli parlasse forse ne verrebbero fuori ancora di più nuove di quelle che sono nel frattempo venute. Lei ha subito qualche conseguenza per l'atteggiamento che ha preso? Nella mia professione no, assolutamente, nella vita sociale lo stesso, di nessun genere. Come massone sì, sono stato espulso attraverso la costruzione di un processo massonico artificioso con delle accuse di lesa maestà nei confronti del Gran Maestro che ovviamente insieme ad altri fratelli combattevo perché consentiva questa situazione, questa anomalia. Eravamo piuttosto pitulanti e pericolosi e quindi dovevano trovare il sistema di buttarci fuori dall'istituzione massonica. Non era difficile volendolo, infatti non lo è stato. Hanno riparato poi? No, no.